Con me entrano in consiglio di presidenza dell'ARS i 722.555 che hanno dato fiducia al Movimento 5 Stelle. Per noi è importante entrare in quell'ufficio perché il consiglio di presidenza gestisce anche i vitalizi, gli stipendi dei deputati regionali, il luogo dove in sostanza si decidono tutte le spese. Così il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri, appena eletto vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana. In quelle stanze, sottolinea Cancelleri, porteremo la battaglia dell'abolizione dei vitalizi dei deputati per ridarli ai cittadini, oltre 17 milioni di euro.